cominciamo questo tutorial di zumba perché dimagrire come dimagrire lo faccio ogni mattina prima lezione vediamo benvenuto in stromba e zumba l'allenamento con movimenti sincronizzati con la musica è ideato per bruciare grassi sviluppare la massa magra la musica di stromba e zumba è sincronizzata appositamente con i movimenti per motivarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness sono a gammela mamma ti senti? e ti guiderò in questo allenamento di 20 minuti una lezione di stromba e zumba dura 60 minuti prova una lezione dal vivo nella tua zona cominciamo a cominciare forza questo è il riscaldamento ruota il riscaldamento ha detto? ma io l'ho astutata aspetta un secondo ma può essere? è il gruppo delle mamme? sono cammela mamma di sandino scusate per disturbo ma qui nel tutorial è quello della zumba che avete mandato dice mettete il riscaldamento io ce lo spendo voi l'avete acceso? fatemi sapere grazie ah ma forse si deve accendere perché a cusse me fa caudo sudo e demagriscio aggiungamolo va ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti